L'aumento dei costi energetici non deve necessariamente significare il congelamento a basse temperature. Gli esperti di Smart Home di Netatmo offrono un sistema completo di termostati intelligenti. Nel test a confronto, vi spieghiamo quale sistema di riscaldamento e quale termosifone richiede quale termostato Netatmo, e come questo possa farvi risparmiare energia e denaro senza dover rinunciare a un accogliente calore. I termostati intelligenti della serie Netatmo Energy non sono solo pratici, ma anche belli Netatmo. Termostati Netatmo a confronto. Due punti fatti più importanti in breve i termostati intelligenti Netatmo e i termostati per radiatori in un test a confronto termostato. Intelligente Netatmo. Consigli per gli utenti con termostati individuali starter pack di termostati intelligenti per radiatori Netatmo. Raccomandazione per i termosifoni termostato intelligente per radiatori Netatmo. Estensione per radiatori e caldaia termostato. Intelligente modulante Netatmo. Raccomandazione per caldaie o penermi termostati Netatmo a confronto. I dati tecnici ecco come è nata la nostra recensione di esperti dei termostati Netatmo guida all'acquisto di un termostato. Cosa devono sapere gli interessati? Da Netatmo termostato intelligente Netatmo a confronto. La valutazione della redazione termostati intelligenti per radiatori Netatmo. Starter pack. La valutazione della redazione termostato intelligente per radiatori Netatmo. L'estensione del termostato termostato. Intelligente modulare Netatmo. Raccomandazione aperta. Quali sono i migliori termostati in Netatmo? Quanto costa un termostato Netatmo? Che cos'è un termostato Netatmo o un termostato per radiatori? Perché è necessario un termostato Netatmo? Quali sono i vantaggi del termostato intelligente Netatmo e del termostato per radiatori? Quali sono gli svantaggi del termostato intelligente Netatmo e del termostato per radiatori? Come funziona un termostato Netatmo o un termostato per radiatori? Come si installa un termostato Netatmo? Come si installa un termostato per radiatori Netatmo? Quali sistemi sono compatibili con il termostato Netatmo? A che distanza possono trovarsi il termostato intelligente Netatmo e la WLAN? Come viene alimentato il termostato intelligente Netatmo. Il sistema di riscaldamento intelligente Netatmo può gestire più zone di riscaldamento? Quanti programmi di riscaldamento possono essere creati dagli utenti con Netatmo Smart Thermostat? Quando deve essere utilizzato il termostato intelligente per radiatori Netatmo? Quanti termostati per radiatori Netatmo possono essere installati per ogni sistema? È possibile utilizzare lo starter pack per termostati a radiatori Netatmo insieme al termostato Netatmo? A che distanza può trovarsi un termostato a radiatore intelligente Netatmo dal modulo WLAN? Il termostato per radiatori Netatmo Smart è compatibile con i miei radiatori? Termostati Netatmo a confronto. I fatti più importanti in breve. L'argomento dei termostati per radiatori e del riscaldamento sembra complicato, ma non lo è. Vi spieghiamo in breve chi ha bisogno di quale termostato Netatmo. Radiatori. Se avete solo radiatori ad acqua calda nelle stanze e impostate la temperatura sul radiatore, probabilmente utilizzate un sistema di riscaldamento senza termostato centrale, riscaldamento centralizzato, e avete bisogno del Netatmo Smart Radiator Thermostat Starter Set. Termostato. Chi imposta la temperatura su una piccola scatola a muro, il cosiddetto termostato, di solito utilizza un sistema di riscaldamento individuale o un termostato, come spesso avviene nei condomini. In questo caso è necessaria la soluzione Netatmo Smart Thermostat. Caldaie OpenERM. Le caldaie OpenERM sono simili alle caldaie individuali, ma funzionano con il nuovo protocollo Wireless OpenERM, e di solito offrono già funzioni intelligenti. In questo caso è necessario il termostato intelligente modulare Netatmo, i termostati intelligenti Netatmo e i termostati per radiatori in un test a confronto. Per tutte le soluzioni di riscaldamento intelligenti Netatmo è necessario un cosiddetto REL-E-WLAN. Si tratta di un hub che collega il termostato o la testa del termostato sul radiatore a Internet e garantisce che l'utente possa regolare e controllare le soluzioni Netatmo tramite smartphone. Termostato intelligente Netatmo. Consigli per gli utenti con termostati individuali. Il termostato intelligente Netatmo è adatto agli utenti con un termostato centrale. La funzione di adattamento automatico tiene conto dell'isolamento termico dell'abitazione e della temperatura esterna e calcola automaticamente il momento ottimale per l'accensione del riscaldamento. I programmi di riscaldamento personalizzati possono essere facilmente definiti tramite l'app Risparmiare è divertente. Termostato ambiente Netatmo riscaldamento intelligente, maggiore confort domestico e minori costi di riscaldamento, controllo semplice. Consiglio Alexa 149,99€ al negozio. 199,99€ in negozio a partire da 20,11. 2023 se siete alla ricerca di un sistema di termostati per radiatori conveniente per risparmiare energia, potete iniziare subito con lo Starter Pack Netatmo Smart Radiator Thermostat. Il sistema offre piani di riscaldamento personalizzati, rilevamento dell'apertura delle finestre e regolazione intelligente del calore, che tiene conto anche della radiazione solare. Noi la pensiamo così, intelligente e facile da usare. Starter Pack termostato per radiatori WLAN Netatmo Starter Set per il controllo intelligente del riscaldamento. Include controllo vocale, modalità assenza e rilevamento dell'apertura delle finestre. 159,95€ in negozio. 199,99€ in negozio. 199,49€ in negozio a partire da 20,11. 2023 termostato intelligente per radiatori Netatmo. Estensione per radiatori e caldaia. Il singolo termostato Netatmo Smart Radiator viene fornito senza una Wi-Fi e può quindi essere utilizzato solo per ampliare un sistema di riscaldamento Netatmo esistente. Gli utenti di un termostato Netatmo possono utilizzarlo per controllare in modo intelligente i radiatori non collegati al controllo del riscaldamento a parete. Gli utenti di un sistema di riscaldamento collettivo senza termostato centrale possono utilizzarlo per controllare radiatori aggiuntivi. Termostato per radiatori Netatmo Il termostato intelligente aggiuntivo per radiatori ottimizza il programma di riscaldamento in tutte le stanze e consente di risparmiare ancora più energia analizzando la vostra routine quotidiana. 87,99€ al negozio 288,23€ al negozio 239,95€ in negozio a partire da 20,11. 2023 termostato intelligente modulante Netatmo. Raccomandazioni per caldaia Opener. Se avete già una caldaia Opener in uso, cioè un sistema di riscaldamento centrale o collettivo con termostati ambiente, potete dotare le vostre stanze con il Netatmo Mojallating Smart Thermostat. La gamma di funzioni è molto simile a quella del termostato Netatmo, ma offre anche la gestione dell'acqua calda sanitaria tramite speciali programmi di riscaldamento. I termostati Netatmo a confronto, i dati tecnici. I termostati intelligenti sono facili da usare, ma purtroppo molti consumatori sono confusi su quali modelli siano adatti al loro sistema di riscaldamento domestico. Nella tabella abbiamo messo a confronto i termostati Netatmo, in modo che gli utenti possano trovare rapidamente la soluzione di cui hanno bisogno. In genere si tratta del Netatmo Smart Radiator Thermostat Starter Pack per le case con riscaldamento centralizzato nel locale caldaia, e del Netatmo Smart Thermostat per le case che hanno una caldaia a gas individuale in bagno o in cucina e impostano la temperatura su un termostato a parete. Termostato intelligente Netatmo Starter Pack di termostati intelligenti per radiatori Netatmo termostato intelligente per radiatori Netatmo termostato intelligente modulante adatto per caldaia individuale, gas, gasolio, elettrica, con termostato centrale e riscaldamento collettivo senza termostato centrale, radiatori ad acqua calda caldaia openerm, riscaldamento centralizzato con termostati a parete. Esempi di sistemi di riscaldamento, esempio, caldaia, stufa a pallet, pompa di calore riscaldamento a pavimento, riscaldamento centralizzato. Riscaldamento a blocchi mozzo richiesto si, compreso nella fornitura si, compreso nella fornitura si, non incluso nella fornitura si, compreso nella fornitura accessori possibili si, termostato intelligente per radiatori Netatmo a, termostato intelligente per radiatori Netatmo a, termostato intelligente per radiatori Netatmo accessori per compatibilità richiede un router WLAN controllo tramite smartphone controllo sul dispositivo Geofencing batterie necessarie prezzo di listino del produttore ecco come è la nostra recensione di esperti dei termostati Netatmo. Nel valutare i termostati Netatmo per riscaldamento e radiatori, abbiamo applicato il nostro principio di valutazione a 360 gradi. Ciò significa che non solo abbiamo incorporato la nostra esperienza nella valutazione editoriale, ma abbiamo anche ricercato test e recensioni dei clienti sui singoli prodotti. Nei casi in cui abbiamo trovato risultati validi, li abbiamo inseriti nel confronto tra termostati Netatmo. Guida all'acquisto di un termostato. Cosa devono sapere gli interessati da Netatmo? Ogni produttore ha le sue caratteristiche particolari. Questo è anche il caso di Netatmo. Nella nostra guida all'acquisto del termostato per riscaldamento Netatmo, spieghiamo cosa gli utenti possono aspettarsi e a cosa devono prestare attenzione. Sistema di riscaldamento. Prima di scegliere un termostato Netatmo o un termostato di riscaldamento, gli interessati devono conoscere. Il sistema di riscaldamento utilizzato. È possibile scegliere tra tre tipi, un termostato individuale controllato da un termostato centrale a parete, un sistema di riscaldamento collettivo senza termostato centrale in cui la temperatura è controllata direttamente dal radiatore o una sistema di riscaldamento OpenERM. Batterie. I termostati per radiatori richiedono batterie per l'alimentazione. Netatmo promette una durata della batteria fino a due anni per il suo termostato intelligente per radiatori Netatmo. Più lunga è la durata della batteria, meglio è. Se la batteria è scarica, non è più possibile controllare la temperatura tramite l'app per smartphone. Relea o hub WLAN. I termostati Netatmo per radiatori e termostati richiedono un hub per il collegamento tra il dispositivo, internet e lo smartphone. Questo compito è svolto da un dispositivo che Netatmo chiama Relea e che è incluso con i termostati per radiatori nel set iniziale. E con i termostati, a parete. Controllo. Le soluzioni termostatiche Netatmo per radiatori e termostati a parete sono controllate principalmente tramite l'app Netatmo Energy, Android, iOS. Questa viene utilizzata per programmare i piani di riscaldamento individuali o per recuperare i dati statistici. Se internet non è disponibile, gli utenti possono impostare la temperatura corrente direttamente sul dispositivo. Assistenti vocali. Le soluzioni presentate nel nostro confronto dei termostati Netatmo sono compatibili con Apple HomeKit e supportano. Gli assistenti vocali Siri, Alexa e Google Assistant. Geofencing. I termostati Netatmo e i termostati a radiatore Netatmo non offrono il geofencing. Ciò significa che i dispositivi non regolano automaticamente la potenza di riscaldamento verso l'alto o verso il basso non appena. Lo smartphone si trova all'interno o all'esterno di un determinato raggio locale. Termostato intelligente Netatmo a confronto. La valutazione della redazione. Il termostato intelligente Netatmo, progettato dal designer e architetto francese Philippe Stark, è un vero e proprio gioiello. Con il suo display monocromatico, i caratteri dal design accattivante e l'involucro semitrasparente con cornice arancione, il termostato aggiunge un accento elegante e minimalista a qualsiasi ambiente. Gli adesivi in cinque colori diversi sono inclusi nel termostato ambiente Netatmo. Netatmo. L'installazione è relativamente facile da realizzare, ma sono necessarie conoscenze tecniche di base. In caso di dubbi, è consigliabile rivolgersi a uno specialista del riscaldamento, che probabilmente sarà in grado di effettuare la conversione in pochi minuti. In linea di principio, il termostato a parete esistente viene sostituito dal termostato intelligente Netatmo. Le funzioni aiutano rapidamente a risparmiare energia e a trasformare la casa in una smart home ad alta efficienza energetica. Il dispositivo crea anche un piano di riscaldamento automatico intelligente in base alle risposte individuali a cinque domande, come ad esempio quando ci si alza e quando si va a letto. Diverse modalità, come la modalità notte, la modalità conforto o la modalità ecologica, semplificano le impostazioni. Non è quindi necessario essere esperti di energia per risparmiare con il termostato intelligente Netatmo. Gli utenti beneficiano anche di funzioni intelligenti come la funzione di adattamento automatico, in cui il termostato tiene conto dell'isolamento della casa e della temperatura esterna e utilizza i dati ottenuti per calcolare quando accendere il riscaldamento. Una funzione di autocura avvisa tempestivamente l'utente se la batteria si sta scaricando o se si verificano problemi. In questo modo, l'utente non deve preoccuparsi di ritrovarsi improvvisamente a casa al freddo. Tuttavia, il termostato intelligente Netatmo non offre una funzione di geofencing. Inoltre, gli utenti non possono alimentare il termostato via cavo. Come i termostati per radiatori Netatmo, il dispositivo si alimenta a batterie. Molti termostati controllano solo la stanza in cui sono installati. Gli utenti possono equipaggiare altre stanze con il termostato intelligente per radiatori Netatmo. Tuttavia, non con lo starter kit, poiché i termostati dei radiatori devono essere integrati tramite l'hub del termostato. Giudizio del redattore. Il termostato intelligente Netatmo è una soluzione semplice che consente agli utenti di una caldaia individuale con un termostato centrale di rendere il proprio riscaldamento intelligente e di risparmiare energia. Netatmo Smart Thermostat. Test e recensioni importanti nel test del termostato intelligente Netatmo effettuato da Pocket Lint. Il termostato intelligente ha ricevuto 4 stelle su 5. Stato, 1 fratto 2021, non abbiamo ancora ricevuto un test da Stifton Guern Test per il termostato intelligente Netatmo. A partire da, 9 fratto 2021, i clienti di Amazon hanno valutato il termostato intelligente Netatmo con un totale di 4,4 su 5 stelle. A partire da, 9 fratto 2021.